Musica 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 Sì, c'è quella cosa che voglio, però faccio un po' scherzo. Prima che vissi quella nera. Ma corri, prima che vissi quella nera, corri! E' qua le scale! Allora, un saluto ai ragazzi, ai fans di F9. Questo canale è fatto con passione e siamo qui a Monte Carlo a questo bellissimo show insieme a tante fantastiche auto e speriamo che arrivi tutte queste immagini a voi. Un saluto, ciao!